Le Dolomiti, patrimonio dell'umanità dal 2009, le chiamano l'Arcipelago Fossile. Non è un caso che queste montagne abbiano un enorme impatto sull'immaginazione di chiunque le incontri, l'incredibile storia geologica che esse riescono a rievocare. E' qui, nel cuore delle Dolomiti, ad Arabba, che iniziamo a pensare a tutto noi, per voi, per lasciarvi liberi di godere delle gioie che questi giganti di pietra riservano. Paesaggi che hanno ispirato le popolazioni che li abitano e i viaggiatori che li attraversano. Vi accompagniamo per sei giorni attraverso il comprensorio sciistico più grande al mondo, il Dolomiti Superski, in ottima compagnia e immersi nella natura, per godere di tutto ciò che essa è in grado di trasmettere. Uno ski safari all'insegna del relax e della tradizione, del comfort e del calore che questi luoghi riescono a rievocare. Sarete leggeri e sarete coccolati, senza zaini sulle spalle, solo occhi immersi nel paradiso che ci circonda. Perché vogliamo lasciarvi un ricordo, quello più piacevole possibile. Arabba Holidays, lo ski safari che stavate sognando.